Combattere lemicrania con 5 deliziosi frullati Non sapete come combattere lemicrania? Vi veniamo in aiuto consigliandovi alcuni frullati davvero efficaci. Lemicrania è un disturbo il cui sintomo principale è un forte mal di testa, pulsante e unilaterale, quasi sempre accompagnato da nausea e sensibilità a luce e suoni. Può presentarsi in forma lieve e durare appena qualche minuto, ma può anche diventare un problema cronico che si estende per vari giorni. A differenza delle comuni cefalee, in caso di emicrania il mal di testa di solito si localizza solo sul lato della testa, inoltre può causare difficoltà visive e neurologiche. Le sue cause principali hanno a che vedere con fattori ambientali, come l'esposizione all'inquinamento, tuttavia può anche essere relazionato a stress, cambiamenti ormonali e cattiva alimentazione. Per fortuna, oltre agli analgesici convenzionali, esistono trattamenti alternativi che possono aiutare a combattere l'emicrania riducendone la serietà dei sintomi. Tra di essi troviamo vari frullati a base di frutta e verdura che, fornendo principi nutritivi all'organismo, permettono di ridurre il problema. Scopritelli. Frullati per combattere l'emicrania. Frullato di ananas, acqua di cocco e verdure verdi. Gli ingredienti che uniamo in questo frullato naturale forniscono composti antinfiammatori e analgesici che aiutano a combattere l'emicrania. I suoi antiossidanti e gli enzimi nibiscono l'azione negativa dello stress ossidativo e aiutano a migliorare il processo di ossigenazione cellulare mentre al contempo stimolano la circolazione sanguigna. Ingredienti. 3 fette di ananas 5 foglie di cavolo riccio 1 gambo di sedo nel succo di un mezzo limone un mezzo cetriolo un mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato, 2 g, 1 tazza di acqua di cocco, 250 ml. Preparazione. Mettete tutti gli ingredienti nel frullatore e frullate fino a ottenere una bevanda omogenea. Ingerite il frullato in presenza del primo sintomo di emicrania. Frullato a base di frutta e latte d'avena. Le vitamine, i minerali e le fibre di questo frullato ci aiutano a mantenere sotto controllo l'infiammazione per calmare il mal di testa originato dall'emicrania. Questi principi nutritivi aumentano il livello di energia del corpo e migliorano la circolazione evitando che i sintomi si prolunghino. Ingredienti. Una banana matura una mela un cucchiaio di frutta secca, 10 g, una pesca una tazza di latte d'avena, 250 ml. Preparazione. Tagliate la frutta e frullatela insieme alla frutta secca e al latte d'avena. Tagliate la frutta secca e al latte d'avena. Dopo aver ottenuto una bevanda priva di grumi, ingeritela il prima possibile. Consumate il frullato se avete mal di testa o se soffrite di sensibilità alla luce. Frullato di anguria e cetriolo. Il frullato a base di anguria e cetriolo è un grande rimedio per combattere l'emicrania causata dalla disidratazione. Questi ingredienti aiutano a riequilibrare i livelli di elettroliti dell'organismo e riducono gli squilibri infiammatori associati alla ritenzione idrica. Ingredienti. 4 fette di anguria 1 mezzo cetriolo 1 cucchiaio di miele, 25 g, un mezzo bicchiere d'acqua, 100 ml, 2 foglie di menta. Preparazione. Introducite tutti gli ingredienti nel frullatore, eccetto le foglie di menta. Frullate fino a ottenere una bevanda omogenea. Servitela e decoratela con la menta. Ingerite questo frullato durante le giornate calde oppure quando avvertite il caratteristico dolore associato all'emicrania. Frullato a base di arancia e latte di cocco. Spremuta di arancia e latte di cocco non danno solo uno squisito sapore tropicale al nostro frullato, donano al corpo anche antiossidanti e principi nutritivi che favoriscono il sollievo dai dolori causati dai forti mal di testa. Questo frullato incrementa il livello di energia, ottimizza l'ossigenazione cellulare e riduce l'infiammazione dei tessuti. Ingredienti. Il succo di 4 arance e un mezzo tazza di latte di cocco, 125 ml, 1 cucchiaio di semi di lino macinati, 10 g. Preparazione. Estraete il succo delle arancia e mettetelo nel frullatore insieme al latte di cocco e ai semi di lino. Ingerite il frullato a digiuno o in presenza del primo sintomo di emicrania. Frullato di ananas, banana e avena. Ricco di antiossidanti, fibre ed enzimi digestivi, questo delizioso frullato è ideale per riempirvi di energia e prevenire le emicramie. I suoi principi nutritivi stimolano la circolazione e mantengono sotto controllo gli squilibri infiammatori che influiscono sulla comparsa del dolore. Ingredienti. 3 fette di ananas 1 banana 3 cucchiai di avena, 30 g, 1 tazza d'acqua, 250 ml. Preparazione. Mettete tutti gli ingredienti nel frullatore e frullate fino a ottenere una bevanda omogenea e priva di grumi. Ingredienti. Ingeritelo come parte della colazione o quando vi sentite privi di energia. Consumatelo per combattere l'emicrania. L'emicrania interrompe le vostre giornate? Preparate alcuni dei frullati qui menzionati e verificate quanto siano positivi per evitare tale problema. Grazie a tutti.